Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi racconteremo di uno scontro in diretta tra due influencer che ha fatto parecchio parlare. Soleil Sorge e Sonia Lorenzini. Ma prima di entrare nei dettagli, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su queste interessanti discussioni. La tensione è salita in casa SDL quando Soleil ha accusato Sonia di diffondere false informazioni sulla sua storia con Giacomo Giorgio, un attore di «Mare fuori». Sonia aveva dichiarato di aver avuto una relazione con Giacomo, ma Soleil ha affermato che il racconto di Sonia non corrisponde alla verità. Secondo Soleil, Giacomo, che è un suo amico, le ha raccontato una versione completamente diversa della storia. La discussione è presto diventata accesa. Con Sonia che ha risposto indignata alle accuse di Soleil. Le parole sono volate. E Sonia ha sollevato la questione dell'eleganza. Suggerendo che Soleil aveva costruito la sua immagine basandosi su gossip e relazioni. In particolare durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Soleil ha cercato di smorzare la tensione. Ma la discussione è rimasta tesa. Gli altri ospiti presenti hanno cercato di cambiare argomento. Chiedendo a Soleil il suo parere sull'attuale edizione del Grande Fratello. Soleil ha condiviso le sue opinioni sulla nuova formula del reality show. Sottolineando l'importanza di rappresentare la società a 360 gradi. Ha anche notato alcune dinamiche forzate per aumentare gli ascolti. Successivamente. È emerso un argomento diverso. Alex Belli che partecipa a. Tale e quale show. Soleil ha difeso l'attore. Elogiando le sue abilità nell'interpretazione e nella creazione di personaggi. Citando il suo comportamento nel Grande Fratello Vip come esempio. Soleil ha anche condiviso un aneddoto sui suoi incontri con Delia Duran e Alex Belli durante l'estate. Sottolineando che sono sempre stati momenti cinematografici. Infine. Sul fronte dei progetti futuri. Soleil ha lasciato intendere che parteciperà alla prossima edizione di Ciao Darwin. Ma ha mantenuto il mistero su ulteriori dettagli. Grazie per essere stati con noi oggi. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su queste intriganti discussioni e interviste. Alla prossima.